non rimandare a domani quel che puoi fare oggi e quel che puoi fare oggi fallo ieri diceva mio padre e io questa cosa non me la sono mai dimenticata perciò ogni volta che ho avuto la possibilità di accarezzare un sogno di realizzarlo io l'ho fatto così come lo hanno fatto tutti i ragazzi le ragazze i neolaureati di una certa età che vedrete in questo video e sì perché non esiste un'età per smettere di sognare tutti abbiamo il diritto di sognare a qualunque età perciò vi aspetto sarò più che felice di potervi aiutare a realizzare i vostri sogni grazie 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 grazie